Il parco archeologico industriale Ex Breda è attraversato da una pista ciclabile dedicata a Luigi Malabrocca, storica maglianera del Giro d'Italia ed è anche presente la scultura Porta Breda dell'artista Michele Festa. Viaggi, sport, arte, sono queste alcune delle attività per godersi la vita e allargare i propri orizzonti, come i veicoli multispazio Renault che ti permettono di viaggiare nel tempo e nello spazio con tanta immaginazione. Mezzi per il tempo libero della famiglia ma anche utile a chi si sposta per motivi di lavoro e cerca l'esclusività. Oggi la gamma di questi veicoli si rinnova completamente e lo fa con ingegno attraverso tre nuovi modelli, nuovo Kangoo, nuovo Traffic Passenger e nuovo Traffic Space Glass. Multispazio elegante e generoso con cinque veri posti, nuovo Kangoo è ideale per le famiglie ma anche per i commercianti, gli altri locali, le amministrazioni e le associazioni che lo apprezzano per la sua modularità e semplicità d'utilizzo. Design distintivo dalle linee atletiche completamente rivisitato, più comfort ed equipaggiamenti. La qualità percepita è quella di un'autovettura alto di gamma. Le famiglie non possono che essere orgogliose di prendere il volante di nuovo Kangoo. Orgoglio ma anche tanta praticità, migliore abitabilità della categoria con tre veri posti nei sedili posteriori, oltre 49 litri divani portaoggetti tra cui il cassetto scorrevole ingegnoso chiamato Easy Life. Un bagagliaio ampio tra i migliori della categoria che arriva fino a 3.500 litri con il pianale piatto e last but not least barre da tetto innovative che offrono un carico supplementare fino a 80 kg. Una dotazione che accompagnerà le famiglie con ingegnosità nei viaggi risolvendo qualunque imprevisto, modulare, pratico e versatile. Nuovo Kangoo sa fare tutto offrendo vantaggi imbattibili come la panchetta ribaltabile, un terzo o due terzi, e il sedile del passeggero anteriore ripiegabile che si trasformano ottenendo un pianale completamente piatto offrendo il 15% di spazio in più. Commercializzato in Italia a partire da luglio, la mission di Nuovo Kangoo sarà conquistare nuovi clienti provenienti dal mondo delle monovolume e ritornare sul podio in Europa. Renault presenta anche la sua nuovissima gamma traffic per il trasporto persone, nuovo traffic passenger e nuovo traffic space class in Italia da giugno. Nuovo traffic passenger è pensato soprattutto per le aziende o piccoli enti che si occupano del trasporto persone, modularità e tanti posti senza compromessi a livello di comfort e volume. Nuovo traffic space class per il trasporto dei clienti VIP risponde alle attese di conducenti e passeggeri più esigenti alla ricerca di versatilità, spazio e comfort esclusivo. Spazio e modernità proposto in due lunghezze, Nuovo traffic passenger e Nuovo traffic space class permettono di trasportare fino a 9 persone con un volume del bagagliaio fino a 1,8 metri cubi. L'abitacolo, completamente rivisitato, offre la miglior altezza a filo padiglione del segmento e nell'abitacolo i vanni porta oggetti vantano una capacità fino a 86 litri. Nuovo traffic space class più chic si distingue per la plancia esclusiva grigio meteora che aggiunge un tocco di eleganza nonché sellerie e volante cromati in pelle per soddisfare i clienti più esigenti. Nuovi Kangoo, traffic passenger e traffic space class per spaziare in modo sempre più ingegnoso. A CIN�